Questa fusione è nata dopo tanto tempo, tanta stanchezza addosso, tanti anni trascorsi, 27 anni sempre da solo. Ho cercato sempre una società che mi stesse vicino, altrimenti ogni volta che mi giravo dietro a me non c'era nessuno, all'infuori del mister, all'infuori di tutti i collaboratori che avevo. Oggi invece incontrando Totò Martorella, che tutti conoscete, Claudio Croce, ho trovato veramente una realtà solida, una realtà che penso che ci fa crescere a noi, crescono loro e possiamo continuare a portare avanti questo discorso del calcio, che io lo faccio sempre a livello sociale, per andare avanti e per prendere tutti questi ragazzi, toglierli dalla strada. E imboccarli in una vita tranquilla. L'impegno che abbiamo preso per adesso è uno, che loro fanno tanti sacrifici nel settore giovanile, come noi anche. Abbiamo tutte e due le società, settore giovanile ed elite, sia con i giovanissimi sia con gli allievi, abbiamo tutto. E cerchiamo di portare avanti che questi giovani, allievi, che invece di, come hanno fatto fino adesso, andare tutti sparsi in altre società, invece facciamo di tutto per portarli nella nostra prima squadra e che stiamo lottando sempre per rimanere in eccellenza. Già quest'anno 45 ragazzi, 94, 95 loro, anche qualcuno nostro, già fa parte della prima squadra ed è una bella cosa per pescare. Sono molto contento perché proprio domenica, una nostra ragazza, abbiamo avuto un Verratti, perché ha giocato i primi minuti in Serie A, è per me sentire che è una ragazza cresciuta. Il suo nome? Angela Passeri, è anche domenica, un nostro ragazzo, sempre del nostro settore giovanile. Prima venuto dall'Annunzio, ringrazio anche il presidente dell'Annunzio che ci ha dato questa possibilità di far crescere questo ragazzo. Domenica ha giocato con il latino, gioca, due settimane fa ha giocato contro il Palermo e si sta vedendo, ha fatto un bel assist dove ha fatto fare un bel gol col pareggio della squadra.